Manuel, oggi sei tu lo sposo e quindi accogli e fai tu queste parole di Dio per Francesca, la tua sposa, ti fidanzerò, ti sposerò nella fedeltà, alla mia fedeltà non verrò mai meno e questo ti sarà possibile se sarai sempre unito e porterai sempre nel tuo cuore la benedizione che oggi Dio effonde su di voi con la grazia del sacramento di usia e in ultimo un amore totale. A morire! A morire le sposi! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Ora è tutto pronto. Andiamo! Andiamo, andiamo! Sì, sì! Sì, sì! 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 Grazie a tutti.